oggi facciamo salotto con i ragazzi del teatro 8 di torino buongiorno a tutti da massimo e francesco per il laboratorio a speed up oggi reciteremo il re leone scena numero 3 e zio scar indovina io detesto gli indovinelli io sarò il re della rupe dei re o congratulazioni il mio papà mi ha appena fatto vedere tutti i regni ed io lo comanderò tutto quanto sì beh scusami se non salto dalla gioia la mia povera schiena sai ehi zio scar quando sarò re tu che cosa sarai lo zio di un curioso sei così strano non ne hai la più pallida idea allora il tuo paparino ti ha mostrato tutto il regno vero tutto quanto ti ha fatto vedere cosa c'è dietro l'altura del confine nord beh lì no ha detto che non ci posso andare una decisione assolutamente sensata è troppo pericoloso solo i leoni più coraggiosi ci possono andare io sono coraggioso cosa c'è mi dispiace simba non posso proprio dirtelo perché no simba simba mi sto solo preoccupando per il mio nipote preferito sì certo sono il tuo unico nipote una ragione in più per essere protettivo verso di te il cimitero degli elefanti non è posto per giovani principi ops oh che stupido ho parlato troppo ciao ragazzi e ragazze oggi ci adentiamo nel mondo della musica classica con uno dei più grandi compositori di tutti i tempi ludwig van bethoven conosciuto anche come il re della musica classica immagina immaginatevi un mondo senza musica sarebbe davvero triste vero eppure la storia di bethoven ci dimostra che anche quando sembrano esserci ostacoli stramontabili la passione e la determinazione può supportare la creazione di opere straordinarie bethoven è stato un vero e proprio pioniere della musica nonostante la sorrità lo abbia colpito quando era ancora un giovane uomo lui non si è reso ho continuato a comporre dirigere e suonare lasciando un'eridità musicale che ha toccato il cuore di milioni di persone in tutto il mondo le sue composizioni sono come storie senza parole parlano direttamente all'anima trasmettendo emozioni che non possono essere descritti con le parole non è sorprendente che bethoven sia diventato un punto di riferimento per tanti altri compositori dopo di lui ma la musica di bethoven non è solo bella da ascoltare è anche importante storicamente le sue opere hanno influenzato profondamente il linguaggio musicale del diciannovesimo secolo e oltre aprendo la strada a nuovi formisti musicali ora immergiamoci un po nella vita di questo grande maestro della musica bethoven è nato il 16 dicembre 1770 a bonn una cittadina germania occidentale la sua famiglia non era ricca ma aveva un grande aveva una grande passione per la musica e così fin da giovane bethoven è stato circondato dal suono dell'amore per l'arte scommetto chi vi state chiedendo perché sto parlando di bethoven oggi giusto bene ci sono due motivi primo motivo bethoven ha un legame specialico il violoncello che è uno dei strumenti principali delle sue composizioni e secondo ho appena iniziato a suonare il violoncello e da sei mesi che lo suono e sto innamorando sempre di più di questo strumento quindi cari ragazzi e ragazze spero che questo viaggio nel mondo di bethoven vi abbia incurito tutto e interispirato continuate ad esplorare la musica e non dimenticate mai che con la passione e impegno potete superare qualsiasi ostacolo a ultima cosa per favore iscrivetevi al nostro canale teatro 8 quindi cari ragazzi e ragazze alla prossima puntata bentornati io sono lorenzo e adesso concludiamo questa puntata con il main event noi ci facciamo la recensione senza spoiler di un anime anzi di un film di animazione giapponese noi stiamo parlando di lupen terzo il castello di caiostro il film del 1979 diretto dal grande haiao miyazaki via vi aggiungo tre trame quelle la prima di nexo digital la la seconda di in coming soon e la terza di u del sito di uc cinemas adesso vi leggo la prima allora in lupen terzo il castello di caiostro i protagonisti sono lupen terzo e il suo fedele compagno gigan insieme sono riusciti ad individuare la fonte delle delle banconote false che ha messo che ha messo in ginocchio l'economia mondiale caiostro lo stato più piccolo del mondo governato dall'omonimo conte all'interno delle mura di pietra del castello il conte tiene prigioniera la bella clarisse la quale possiede la chiave per accedere ad un tesoro di dinestimabile valore lupen desidera liberare la ragazza a punire i malvagi e ovviamente assicurarsi il tesoro in questa straordinaria avventura non mancano altri personaggi chiave della saga come la seducente fujiko e il tenaci ispettore senigata adesso c'è la seconda trama quella di coming soon ovviamente saccheggiare il casino di monte carlo rubare il cuore ad una bella donna non c'è furto impossibile per lupen terzo ladro gentiluomo casanova e maestro dei tre vestimenti questa volta lupen il fedele gigen hanno rintracciato la fonte delle banconote false che stanno mettendo in ginocchio l'economia mondiale il piccolo paese di caiostro governato dall'omonimo conte tra le mura di pietra del suo castello il conte tiene imprigionata la bella principessa clarisse che conosce la chiave per un tesoro inimmaginabile e dove c'è lupen con i suoi amici non sono lontani né fujiko né senigata lupen vuole liberare la ragazza a ponere i malvagi naturalmente prendersi il tesoro basteranno tutte le forze dell'interpol una banda di ninja dalle unghie a sciapola e una cospirazione internazionale per fermarlo e invece già terza ed ultima trama cioè quella di uc cinemas lupen è alla ricerca dei leggendari falsari della dinastia del caprone da sempre feudatari del piccolo paese di caiostro il caso gli farà incontrare la principessa clarisse futura sposa del conte di caiostro l'ultimo discendente del caprone alla ricerca del tesoro segreto della sua famiglia e per trovarlo ha bisogno dell'anello di clarisse io vi dico le mie opinioni personali su questo film io ho visto lupen terzo il castello di caiostro al cinema e gli amato video hanno deciso di distribuire lupen terzo il castello di caiostro al cinema negli un evento speciale per tre giorni proprio in occasione del 45esimo anniversario proprio del primo film di Miyazaki per me lupen terzo il castello di caiostro per me lupen terzo il castello di caiostro è un film che a me è piaciuto veramente veramente tanto io mi sto avvicinando ai manga e anime come mi sto per avvicinare a one piece e a dragon ball e per me era la prima volta che al cinema vedi vedo un film di lupen terzo il castello di caiostro per il peccolo ha perso al cinema ha guardato in streaming perché è veramente bello su tutti i punti di vista è un capolavoro uno dei migliori film di lupen nelle che siano mai stati fatti la colonna sonora fantastica la canzone è stupenda i doppiatori sono stati veramente bravi roberto le giudice che aveva doppiato lupen molto bravo era molto straordinario anche se anche se non c'è più anche se non c'era più secondo me lupen terzo fa merita di essere conosciuto e di essere visto i prodotti che sono stati fatti dedicati proprio a lui ok noi ci concludiamo qui noi ci vediamo la prossima ok ciao ragazzi alla prossima ciao 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 tutti io sono antonino e io davide per il laboratorio a speed hub la giuria scena 3 ci sono delle cose dure a morire sembra come questa tendenza a chiedere sempre di più siamo arrivati a 12 milioni in più ognuna delle nostre fabbriche d'armi ha già messo 4 milioni di dollari in questo fondo per lo sviluppo dello sport capisco che questa cifra forse dalle sue parti non sembra un granché 20 milioni di dollari basterebbero per comprare una giuria in un paese comunista come la california figuriamoci qui le va bene 30 mila 30 mila come sarebbe tanta mila è un numero su cui vale la pena riflettere quello dei morti per arama da fuoco ogni anno o gli uomini donne bambini rimasti invalidi per la merce di loro signori solo l'anno scorso 100 mila sono stati oppure riduciamo tutto a un solo numero uno perché solo uno ne basta loro una causa vinta un precedente e ottenuto questo andranno in giro per tutto il paese a intentare cause civili e a fare man bassa dei due miliardi di dollari che guadagnate dalla vendita di armi e munizioni in ogni anno fiscale 2 miliardi di dollari è una bella cifra dalle mie parti quello che vi chiedo io è una miseria rispetto a quanto vi costerebbe un verdetto negativo grazie a tutti gli speaker che hanno partecipato a questa nuova puntata di radio teatro 8 per oggi è tutto vi aspettiamo alla prossima puntata